Cancelli chiusi e elezioni saltate oggi in molti scuoli d'Italia per lo sciopero proclamato dai sindacati confederali di base con l'eccezione del CISL Scuola. La protesta è contro le politiche del governo Draghi dedicate al settore scuola. Si chiedono più fondi per il rinnovo del contratto, la stabilizzazione dei precari, più sicurezza per i plessi. Per i sindacati nella legge di bilancio solo lo 0,62% viene destinato alla professione del docente con una previsione di aumento di appena 87 euro contro i 350 per il personale della pubblica amministrazione.